di campionato, tre partite, domani importanti, Frosinone-Napoli, Empoli-Verona e poi Genoa-Fiorentina. Andiamo a sentire a questo proposito, cioè grande attesa, eccolo qua, la grafica della prima giornata appunto con Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, poi tutte le altre partite, vi vedo l'appuntamento per lunedì, esatto, c'è anche Inter-Monza e poi vi ricordo il nostro Paolo Ciotti domani, quindi il bel piatto ricco, l'appuntamento ve lo do per lunedì perché torneremo a parlare.